Teatro, musica, amore per le storie e per i sapori di un territorio caratterizzano la stagione 2020 del Rosini di Lucignano in provincia di Arezzo. Il calendario degli eventi a cura del comune e di officine della cultura è stato presentato a Palazzo del Pegaso. Anche quest'anno, a parte la stagione teatrale Assaggi di teatro a Lucignano, è la nostra stagione teatrale che vede abbinato il teatro alla parte culinaria. Noi proponiamo i nostri prodotti ma non solo perché ogni scena fatta dai nostri ristoranti viene abbinata allo spettacolo che viene presentato. È molto divertente per l'allestimento sicuramente perché togliamo tutte le sedie, le poltrone teatrali, quindi la comoda seduta e apparecchiamo proprio il teatro con dei tavoli da grande festa. La particolarità è mettere d'accordo i ristoratori di Lucignano con gli attori che poi metteranno in scena lo spettacolo. In realtà c'è un accordo proprio precedente, il menu viene dichiarato insieme. Per esempio il 21 gennaio cominciamo con una cena ebraica e il menu è concordato appunto con la comunità ebraica di Firenze, quindi sarà una cosa anche molto particolare. Di solito viene appunto la cena preceduta dallo spettacolo e possiamo vantare di avere una prima nazionale quest'anno a Lucignano che è lo spettacolo di Vinicio Marchioni sul vino, in vino Veritas. Sarà uno spettacolo, una prova, una prima prova che per fortuna riesce a fare da noi con una bella cena romana, essendo lui romano.